Non svolgere le votazioni nelle strutture scolastiche in modo da non bloccare per due giorni le elezioni, proprio subito dopo la ripartenza, dopo mesi di stop. È la richiesta dei consiglieri comunali lecchesi Filippo Boscagli, Massimo Riva e Antonio Grandino in vista delle prossime elezioni. Come già fatto in diverse sedi istituzionali, spiegano rinnoviamo la richiesta di verificare ogni possibilità di utilizzo di strutture diverse dalle scuole dove svolgere l'attività di seggio. La settimana successiva, all'apertura del 14 settembre, i bambini di Lecco si troveranno a casa subito per due giorni, lunedì 21 e martedì 22, con gli ovvi problemi per le famiglie che ci auguriamo possano ripartire con il lavoro proprio in quei giorni. Le alternative ci sono, secondo i tre consiglieri comunali lecchesi, ogni istituzione, oltre al comune, dagli enti superiori alla prefettura, deve fare di tutto per garantire che il servizio scolastico non venga interrotto il loro appello, sondando ogni possibile soluzione, dagli oratori alle sale comunali, fino alle migliori tensostrutture della protezione civile, chiedendo alla comunità locale ogni soluzione disponibile. Sarebbe davvero paradossale, concludono Boscagli, Riva e Grandino, chiudere subito scuole di 700-800 all'unni per il voto di 500 persone, quando è possibile almeno tentare di garantire il voto lecchese per altre vie.